Sì, due, ok? Up, 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 eh? La volta, la volta, eh? Sì, group, group, ok? Ok, quando tirate, quando fate illo kick? This, 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 illo kick, vado a colpire qua. Ok, qua. Ok. Ok. But turning, ok, turning, safety, ok? Kick here, turning. When you fight, here. Dove c'è l'attaccatura dei muscoli, che è? Qua? Qua. La sua. Non, sulla gamba, su un passivo dove c'è più forte. I want you, you go. I want, I want. All right? Ok. Ok, voglio vedere qui imparate a fare questo movimento qua. Che tanti non lo fanno. Fanno questo. Fanno solo il passo. Invece questo... Ok. V ahí. A poco... Certo, ok. vieni, 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 vieni.... fa male per lui qua